Se per Capodanno si vocifera che Belè Rodriguez volerà alle Maldive col fidanzato Andrea Iannone, per Natale la showgirl ha deciso di restare in famiglia. Attraverso i seguiti profili social, sia dell'Argentina che dei suoi parenti infatti, il gossip ha scoperto che hanno affittato una baide montagna per aspettare l'arrivo di Babbo Natale. Il piccolo Santiago, che ha trascorso l'inizio di questo lungo periodo di festa lontano dal padre Stefano De Martino, ha potuto abbracciare l'uomo che gli ha portato tanti doni. La conduttrice Mediaset ha condiviso sul web molti scatti del figlio in questi giorni ed ha manifestato, ancora una volta, il grande amore che prova per lui. Però c'è un piccolo mistero sulle vacanze di Natale della chiacchierata Belen. Alcuni siti, infatti, sostengono che Iannone non fosse in montagna con la fidanzata, perché non compare in nessuna foto pubblicata dai Rodriguez in questi giorni. La crisi di cui parlano tanto i giornali di gossip, però, non sembra esserci, anche perché l'Argentina e il pilota di MotoGP sono pronti a godersi la prima vacanza in coppia alle Maldive. Con buona pace dell'innamorato e pentito De Martino. Per restare aggiornato sul gossip, iscriviti al nostro canale YouTube e seguici sulla nostra pagina Facebook.